Quinta domenica di Quaresima Nel brano dell'Evangelo di Giovanni c'è un episodio che è abbastanza curioso. Ci sono alcuni greci venuti a Gerusalemme per la Pasqua che desiderano vedere Gesù e lo chiedono a Filippo il quale si consulta con Andrea poi insieme vanno da Gesù e gli chiedono appunto della possibilità di incontrare questi greci e Gesù risponde in una maniera che evidentemente non è quella che i due si aspettano. Non c'è nessun incontro, almeno in questo brano, non c'è nessuna risposta diretta a questa richiesta. Gesù fa invece un discorso che riguarda il sacrificio, l'offerta della sua vita quello che gli chiama appunto la glorificazione di Dio, del Padre, offrendo la sua vita e che conclude Quando sarò innalzato, allora tirerò tutti a me. Cioè la risposta di Gesù alla richiesta di alcuni greci di vederlo, di incontrarlo è una anticipazione su ciò che sta per accadere. Sul fatto cioè che egli è pronto a dare la vita per la salvezza del mondo e che questa sua donazione permetterà a Dio di attirare a sé tutti gli uomini. Allora come una risposta indiretta probabilmente, cioè la richiesta di incontrarlo diventa per lui motivo di parlare di questa prospettiva universale di salvezza, di attrazione di tutti verso il Salvatore sulla croce. Del resto il tema della glorificazione è consueto in Giovanni e sta a indicare appunto l'esaltazione di Gesù sulla croce, cioè il dono della sua vita con il quale, questo è l'evento pasquale, si conclude una nuova alleanza tra Dio e l'uomo. Alleanza della quale parla diffusamente il primo testo, Geremia, al capitolo 31, quando dice che Dio concluderà un'alleanza nuova con Israele. Non più un'alleanza come quella conclusa sul Sinai, ma una legge che viene scritta nel cuore dell'uomo. Un'alleanza intima dunque, un'alleanza in cui alla forma esteriore della legge corrisponderà, succederà la legge dell'amore e la legge del perdono, della misericordia. Comprendiamo alla luce anche di questa lettura qual è il senso allora della glorificazione di Gesù sulla croce di cui parla Giovanni. È davvero il segno di una nuova alleanza. Un'alleanza scritta nel cuore dell'uomo che sostituisce l'esteriorità della legge, sostituisce anche quella visione mondana, terrena, probabilmente di tipo politico, che è la prima legge assunto per gli ebrei e alla quale pure non hanno saputo tenere fede. La nuova legge invece di cui Gesù parla, la nuova alleanza, di cui Dio parla anche nella profeta Geremia, è un'alleanza di amore, un'alleanza fatta di donazione reciproca, di conoscenza profonda, per la quale non sarà più necessario fare molte dichiarazioni, ma una conoscenza dell'intimo che evidentemente da parte dell'uomo prevede l'obbedienza alla presenza e alla volontà di Dio, da parte di Dio l'assunzione piena dei bisogni dell'uomo nella salvezza. Una salvezza che è eterna e per la quale Gesù dice con chiarezza che occorre ed è necessario che il chicco di grano muoia. Questa metafora del chicco di grano, questa parabola con la quale è presente in fondo se stesso, ma la vicenda di ogni discepolo che aspira alla vita ed è disponibile a perderla qua giù sulla terra, dice appunto qual è il senso profondo di questa alleanza, un'alleanza per l'eternità. E sappiamo che su questo aspetto dell'alleanza Gesù tornerà nell'ultima cena, quando parlerà del sangue versato per un'alleanza nuova e quella della quale parla appunto Geremia. Di questa alleanza parla anche la lettera agli ebrei, che vede in Gesù il sacerdote perfetto, reso perfetto da Dio proprio per la sua obbedienza. Evidentemente dal punto di vista umano è stato un sacrificio pesante, sofferto quello di Gesù, il quale, dice la lettera all'ebrea, ha supplicato Dio con lacrime perché fosse salvato da quell'ora e Dio lo ha esaudito, lo ha esaudito attraverso la risurrezione. Ecco la vicenda del chicco di grano che muore e che a questo punto diventa seme di una vita nuova. Ecco il Cristo che è innalzato sulla croce, che attirerà tutti a sé, ed allora è sacerdote eterno, perfetto, reso perfetto, dice la lettera agli ebrei, dall'obbedienza. Perfetto mediatore fra Dio e l'uomo. Ecco allora il mediatore di un'alleanza nuova, fissata, scritta nel cuore dell'uomo. Sorprende che oggi, molto spesso, nella nostra mentalità, la cronaca ce lo dice con abbondanza, noi guardiamo la legge come l'unica possibilità di convivenza, come l'unica possibilità di, diciamolo pure, salvezza per la giustizia a livello mondano. Tutto dovrebbe essere assicurato dalla legge, tutto avviene modificando le leggi, rendendole più adeguate. Sembra quasi inesistente la questione, il tema della conversione del cuore. Nessuna legge potrà mai impedire che si compia il male, e nessuna legge potrà mai garantire che un cuore aderisca pienamente al bene, anche al servizio del bene comune. Si esige quindi una conversione profonda, che è in fondo ciò che Gesù dice, essere disposti a perdere la propria vita, ecco, una rinuncia all'egoismo, a perdere i propri interessi, diremmo, privati, a perdere il proprio punto di vista, per mettersi a servizio degli altri, in ascolto degli altri, perché l'operare per il bene comune implica sempre una rinuncia a sé, è un dono per gli altri. In fondo è questa la vera caratteristica della vita cristiana, seguire Gesù disposti a essere un po' come il seme, che accetta di morire, questo lo sappiamo, non è facile, e anche è difficile dirlo, se poi non si è in grado di viverlo, di testimoniarlo, ma questa è la realtà a cui siamo chiamati tutti, anzitutto chi vi parla, si tratta cioè di essere davvero in linea con questo dono che Cristo ha fatto della sua vita, e solo allora potremmo dire che la legge di Dio viene scritta nel cuore, la legge dell'amore, cioè, la legge del dono totale della propria vita. C'è bisogno che anche nella vita sociale, politica, ma anche nella vita ecclesiale sappiamo fare questo passaggio, di accettare cioè che davvero l'alleanza nuova con Dio sia un'alleanza del cuore, un'alleanza di conoscenza profonda, di adesione piena, della volontà, del desiderio di tutti noi stessi, all'amore di Dio e al suo disegno di salvezza e di misericordia. È bello pensare che nell'anno che il Papa ha già annunciato l'anno santo della misericordia, in fondo si tratterà di questo. Di accettare questa alleanza, di accogliere questo dono che è perdono, che è misericordia, che è guarigione piena, e che significa allora non più una legge esteriore, ma una legge del cuore, significa un approfondimento di tutto ciò che noi siamo, nel nostro impegno per la giustizia, per il bene, per la verità, anche in questo mondo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.